Comunicavano tra di loro all'ora, con i segnali, con i fuochi e via dicendo, comunicavano. Sì, io lo vedo tutto con la primavera. Che altra stiamo qua? Qua siamo sui 400, 350-400. Senti un pochino più freschetto qua, che giù, e c'è un 3-4 gradi di differenza. Che bellezza! Questa è l'autostrada, no? Questa è l'autostrada, questa qua, che va da... Come passa attraverso la galleria. Tutta la galleria. Esatto, gira, va laggiù e prosegue. Va a Livorno. Ah, che vegetazione! E di là invece c'è il Levanta. Con questo castello non vengo a arrivare, adesso mi termino. Hai preso sul castello? Con il castello. Quasi ne vado. Che è scesa, eh? Ti piace? Certo! Una testa fantastica di qua. Com'è? Va bene! Va bene! Vado bene! Vado bene! Vado bene! Vado bene!